Bella a tutti ragazzi, il titolo l'avete letto. Senza perdere troppo tempo vi annuncio che parteciperò al regionale di Malmo il weekend del 20 e 21 di maggio. E ho deciso di registrare completamente la mia intera preparazione per questo torneo, per poi postarla su questo canale una volta finito il regionale. Per quale motivo ho deciso di fare ciò? Semplicemente mi andava di darvi una mano in vista dello special di Torino. Per molti giocatori che hanno cominciato durante la pandemia, che comunque non hanno la possibilità di fare altri tornei all'estero, questo sarà sicuramente il primo torneo ufficiale a cui parteciperanno. Ho comunque unico torneo grande, in quanto è l'unico regionale in Italia quest'anno. Tra l'altro le iscrizioni sono oggi alle 19, quindi se volete partecipare ovviamente iscrivetevi. E niente, con questa serie di video, penso di farne circa 7, in quanto manca circa una settimana la mia partenza e penso di fare circa un video al giorno, vi mostrerò tutto quello che faccio per prepararmi ad un torneo. E in questo caso non mi farò aiutare nessuno per prepararmi, cosicché anche se non avete nessuno con cui testare potete comunque capire come fare. Faccio questo anche perché ho la possibilità di autonel farmi, in quanto al momento ho 700 champion points, che sono i punti campionati per partecipare al mondiale. Con 600 punti ho praticamente 100% sicuro il giorno 2 al mondiale, quindi il massimo del reward che posso avere. Quindi niente, se avete qualche consiglio per questa serie scrivete tranquillamente un commento. E quindi niente, bella a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video.